buongiorno ragazzi oggi apro una confezione speciale di zoro archivi astro apriamo la prima carta la seconda e il codice poi ci sono la carta jumbo la spilla il logo viastro e cinque pacchetti due origine perduta una lucentezza siderale astre lucente colpo fusione iniziamo con lucentezza siderale a 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 ok facciamo un riepilogo zoro arc jumbo alcremie mister rim di galarvi poi le due di zoro arc ok adesso per questo è tutto aprirò subito un altro video con un altro box